Sono Elena Roccheggiani, sono un medico veterinario, lavoro presso l'Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche. Il progetto Il sapere necessario alla professione veterinaria negli anni della pandemia globale in realtà nasce, almeno come idea, nell'autunno del 2019, quindi in anni in cui sembrava veramente impossibile quello che poi in realtà sarebbe accaduto e sarebbe arrivato nelle nostre vite come uno tsunami. L'idea era quella di rispondere ad una domanda, ovvero come può un veterinario iscritto all'ordine, indipendentemente da quando si sia laureato, ma comunque uscito dal circuito convenzionale della formazione accademica e indipendentemente dall'aggiornamento fornito magari dalle società scientifiche a cui appartiene, mantenersi informato, mantenere aggiornata la propria formazione, questo soprattutto ai fini del mantenersi anche nell'ambito del mercato del lavoro competitivo. Forse troppo raramente si ragiona sull'appropriatezza dell'informazione. Stiamo parlando poi appunto, la nostra idea nasce ancora prima di tutta la questione dell'infodenia, di cui si è tanto parlato poi in questi anni di Covid, ma è importante sapere come potersi continuare ad informarsi, soprattutto quando non si fa parte magari di istituzioni prestigiose, per esempio di un istituto zooprofilattico o di una università, e quindi può essere ancora più difficile trovare i canali con cui fornirsi, rifornirsi di questo che è più di un nutrimento. Quindi cosa abbiamo fatto? Nell'autunno del 2019 insieme ai presidenti dell'Ordine dei Veterinari di Ancona, di Pesaro, di Fermo e Ascoli Piceno, di Macerata, con l'aiuto del dottor Raul Ciappelloni del Servizio Bibliografico dell'Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche, abbiamo cominciato a ragionare su come organizzare, in un primo tempo pensavamo di organizzare un meeting, un corso di formazione, poi quello che è accaduto nei mesi successivi avrebbe poi talmente trasformato la realtà e quindi anche la nostra idea, per cui adesso in realtà il prodotto che vi presentiamo è un prodotto leggermente diverso. però io penso che potrebbe anche essere un'idea questa, che può essere benissimo sviluppata anche da altri ordini professionali in altre province e forse può in realtà raggiungere un maggior numero di professionisti, quindi come sempre nella vita in realtà una sventura può diventare anche un'opportunità. Quindi da cosa siamo partiti? Siamo partiti un po' con il metodo scientifico che ci contraddistingue, dalla verifica di quest'ipotesi, quindi da un'indagine. Quest'indagine è stata in realtà un questionario somministrato agli iscritti dei vari ordini, a cui hanno aderito con entusiasmo tanti iscritti e da cui abbiamo potuto poi in realtà fare delle ulteriori valutazioni, ma non ci siamo affermati naturalmente qui. Da una parte con questo prodotto proveremo a presentare una serie di banche dati, banche dati facilmente raggiungibili, anche banche dati fornite dall'Istituto Zooprofilattico, ma anche open source, ma nello stesso tempo ci sembrava che potesse essere utile un confronto con professionisti che da una parte hanno fatto delle scelte originali, magari hanno per caso o per scelta percorso o stanno percorrendo delle strade non convenzionali e quindi ci siamo chiesti, abbiamo fatto queste interviste per scoprire come si sono informati prima e come hanno mantenuto l'aggiornamento professionale. D'altra parte abbiamo voluto anche presentare le storie, le avventure, richiamerei, appassionate di professionisti che sono magari usciti dal lavoro di tutti i giorni, ma che hanno ancora vivi ricordi e soprattutto possono mettere a disposizione dei giovani colleghi la loro esperienza e soprattutto l'entusiasmo con cui hanno svolto la loro professione, perché formarsi non è soltanto acquisire notizie, ma io credo l'illusione che sia anche trasferire delle stesse emozioni con cui uno scopre per caso una lettura e la vuole condividere con un collega. Credo che sia questo. Naturalmente l'augurio che faccio a me e a tutti voi è quello di poter ritrovare a breve questo tipo di condivisione di persona. Allora, in conclusione di questo mio breve intervento introduttivo, io mi auguro che questo sia solo il primo step di un percorso che dovremmo percorrere insieme, ordini, istituto zooprofiliattico, altre istituzioni, perché credo che l'aggiornamento professionale sia un ciclo continuo, un lavoro continuo, sia proprio la possibilità di condividere esperienze, formazione, informazioni, la possibilità di tenersi aggiornati e questo sono convinta che sia un compito degli ordini professionali e sia sicuramente un compito anche dell'istituto zooprofilattico dell'Ombria delle Marche.